Nel video di oggi cercherò di rispondere a tre domande fatte da un utente che non esiste. La prima domanda è, Buzzo, ma durante la bassa stagione scistica in Germania è possibile sciare su quelle piste da sci dove è possibile sciare? Seconda domanda, Buzzo, ma durante la bassa stagione scistica in Germania è possibile sciare su quelle piste da sci dove c'è la neve e dunque dove è possibile sciare? Terza domanda di questo utente che non esiste, ma Buzzo, durante la bassa stagione scistica in Germania è possibile sciare su quelle piste da sci aperte e dunque dove è possibile sciare? Caro il mio utente che non esiste, cercherò di rispondere a queste domande fatte con la testa, si sente proprio? Allora, alla prima domanda ti risponderei con un chiaro e secco circa meno quasi, dipende da questo, da quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera Allora, alla seconda domanda ti risponderei con un dipende forse sì forse no e viceversa e viceversa del viceversa mentre alla terza domanda ti risponderei con un...